Peluso hanno spazio, i nostri esterni che partono molto larghi, Kikora soterra, Giovinco di prima, fuori dargliela, mette Seba, parata, porta vuota, gol, 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 la Juve in gol al minuto numero 18. Palla deviata, è subito ripresa, da Osvaldo, poi Vidal, Isla, 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 si fa tutto il campo, vuole il fondo, ottimo gioco di Isla dentro, palla per Vidal, destro, ribattuto ancora, ma quanto è ribattuto, è da basso, da parte dei turchi. Marchigio, dentro l'area stile Pirlo, pesca benissimo Giovinco, attenzione, gol, 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 all'arrembaggio, all'arrembaggio del porto di Tremisonda, bravo dice Conte, bravo Osvaldo. Il raddoppio della Juve, alla minuto numero 33, con Osvaldo che si basa da vicino Giovinco, che gli ha messo lì un pallone meraviglioso.